. Ballando con le stelle, laddio di Giovanni Ciacci dopo il malore shock . Giovanni Ciacci lascia il cast di Cancelletto ballando con le stelle 2018. E questa la clamorosa indiscrezione di queste ore confermata dal diretto interessato dello show di Cancelletto Milli Carlucci. Il quale ha rivelato sui social di voler abbandonare definitivamente il programma dopo le pressioni e le polemiche che ci sono state nel corso dellultima puntata del programma di Raiuno. . Durante la quale abbiamo visto che Cancelletto Giovanni Ciacci è stato duramente criticato da Guillermo Mariotto per il suo tango scandaloso con Raimondo Todaro. . Bufera ballando con le stelle, Giovanni Ciacci se ne va dopo il malore. . Le critiche nei confronti di Giovanni questa volta sono state più dure del solito, sebbene ormai il concorrente fosse in un certo modo abituato a tutto questo. . Dato che ormai è dalla prima puntata di Ballando con le stelle che viene criticato e messo in discussione per la sua scelta di partecipare al programma con un partner maschile. . 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